Ricetta numero 77 Risotto coi pomodori Riso grammi 500 Burro grammi 100 Parmigiano quanto basta Versate il riso sul burro strutto e quando l'avrà succhiato cominciate ad aggiungere acqua calda, poca per volta. Poi, giunto a mezza cottura, dateli sapore con la salsa di pomodoro e prima di levarlo dal fuoco aggiungete un buon pugno di parmigiano grattato. Nella detta salsa, per condire il risotto, potete, piacendovi, sostituire all'olio la carne secca o anche servirvi del sugo di pomodoro descritto dalla nostra ricetta. Lettura di Giorgio Vitali